Cresce a Sanremo la protesta per la raccolta differenziata. Stamani alcuni cittadini ci hanno segnalato il degrado e l'incuria in cui si è venuta a creare in via Nazauro-Sauro, una stradina che collega la pista ciclabile con l'Arenella, che è molto trafficata dai pedoni ed il cumulo malodorante di spazzatura non piace ai passanti. Qui persone incivili passano e lasciano il sacchetto a terra, fregandosene di chi vive a fianco e che poi deve fare i conti con il mucchio di spazzatura sotto il naso, come questa mamma con il bimbo di pochissimi mesi. Abbiamo segnalato più volte questa situazione agli uffici competenti, ci ha detto, ma non è cambiato nulla. Sono giorni, dicono altri cittadini, che non viene ritirata la rumenta. Siamo stanchi e siamo preoccupati per quando arriverà il caldo. La situazione igienico-sanitaria ci preoccupa parecchio. Questa è diventata una discarica a cielo aperto. Cumuli di sacchetti ovunque, anche sul ciglio della ciclabile. Troppi rifiuti, il disagio è palpabile passando di qua. Dovremmo gestire meglio la raccolta differenziata in casa, dice un'anziana. Staremmo sicuramente meglio.